L'organizzazione Orlandelli vi dà il benvenuto. Vi vorrei presentare il nostro carrello Capriolet, che è un carrello che utilizza come base il carrello Unestandard danese. È un sistema di inclinazione brevettato a 5 stadi, che permette di ottenere un ottimo carrello a disposizione per i garden center, per negozi, eccetera. Questo carrello, con questo sistema brevettato, permette di aprire e chiudere facilmente l'espositore. Sul carrello Capriolet noi consigliamo di utilizzare le vaschettine Unestandard, che sono delle vaschette molto importanti per l'irrigazione della pianta, poiché grazie alle agricature aiutano che la pianta non vada a diretto contatto con l'acqua, quindi evitano la sua sfissia radicale. Il carrello Capriolet, essendo un'evoluzione del carrello danese, è di facile movimentazione. Inoltre, per completare la vostra esposizione all'interno del punto vendita, vi consigliamo di utilizzare il prodotto bancale salvaspazio, che permette di sfruttare al massimo lo spazio espositivo.